Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ma, allora, ma sei serio? QUARCHE DI PERETROIA Io voglio fumitar, ma porco di quel porco, porco di quel porco, porco, porco di quel porco Mi sono letto i coglioni Sempre lo stesso modo, sempre lo stesso modo Vaffanculo, vado ancora in build Adesso vi faccio vedere io, Cristo Dio Cristo Mi sono rotto il cazzo, ma vai a fare in culo Amici, rialpiati, un cazzo nel culo e godi, deficiente Ah, vai a fare in culo da un'altra live, bimbo di merda La sfida di Eros, ah, la sfida di Eros Cos'è che era la sfida di Eros? E porca miseria Effettivamente si è ben autostrada durante le sue trip Passando benissimo, cazzo, raga La cosa che mi interessa sapere è l'audio Ci sentite bene? Perché questo è importante, raga Esatto Infatti ha aumentato e diventato arancione Sono le due e mezza con... Bravo Baffo Bella la pompata di Baffone Cerca di fare... Il disastro Baffo è un fenomeno Deve stare attento, sta facendo tutto da solo Ha preso anche tre medikit, poi viene sprayato hard Bravo però con le build Vediamo se riesce a farsi anche un medikit Sarebbe fondamentale Nooo Io che sto Merda Dio E qua gli è entrato male Dio Ci sta Ci sta C'è lendo ancora di just però Attenzione Sì sì C'è preda con la sede che la sta spaccando Contro i mobili della stanza Andato purtroppo Baffo e preda Andato purtroppo Baffo e preda Allora vorrei... No no un secondo No 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 c'è stato un... Non c'è necessità di ridere Non c'è necessità di... Non c'è necessità di... Non c'è necessità di... Mi saluta il prof di fisica Salve prof Non metto le cappelle sopra Nettuno eh C'è del materiale qua? C'è un refresh? Aspetti basta basta Aspetti si chiamano un po' le strutture Sì Avanti di due Io non l'ho persa Non ti posso parlare scusami Nooo Guarda ho trovato una pompata bella Purtroppo una counter Buongiorno Bis Dazio Io 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 Bis Dazio 19 Ciao Bis Grazie dei 19 Grazie PGL Gaming degli Indian Sigma Azzo Bis Dazio 19 sono proprio tantissimi Porco di quel... Dio... A presto A presto Ma di forti... Sono andati Ehm... Non so Che si diciere sicure raga Come sempre ci disociamo Venga inculata No, no, nezza No, era nezza No, era nezza No, era nezza Dove sono i personaggi? Stai godendo Nick, cazzo Anch'io ieri quando ho sbordato su quella puttana di tua madre ho goduto E mi sembra che anche quella troia stava ragliando pesantemente Quando la mettevo a quattro zampe Con la faccia nel microondre mentre glielo sbattevo nel culo con potenza Ah, sì? Venga inculata Merda Merda C'è un medagliere pieno di secondi posti Non sono mai arrivato primo Ho fatto gare in tutta Italia e anche in Svizzera L'abbiamo fatta nell'ultimo periodo No, no, quelle robe lì mi c***o Mi c***o Mi c***o Mi c***o Mi c***o Mi mandano via No, non si può fare Certe pistolate non si può fare C***o Non gliene frega un c***o a nessuno No, lì che ti ammazzi Noi negli allenamenti ci picchia Abbiamo fatto le foto con Rocco Sifredi E con Tonio Cartogno E con Tonio Cartogno E Ale ha fatto altre cose con Rocco Sifredi Esatto Gli ha fatto un sottomaiore Gli ha fatto Esatto E Rocco ha detto Guardate Yeah Abbiamo anche questo abbiamo È mio È tuo C***o è mio Aia, aia Si è toccato Raga Tra l'altro io Allora Gesù Dio Immacolato Anche lui col pompa Non chiedermi come sia possibile questa cosa E perché sono negli sms c***o Come ha fatto a tirare gli double link Non lo so Oh Oh Aspetta 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 un attimo Ok perfetto Scusate Non avevo buildato Mmm Mmm Siamo lì ragazzi Chiuderemo la live che è stata un po' breve Oggi anche se stanno aumentando Sì sì Quasi 400 Poi ci vediamo al ritorno Ciao Efe Ragazzi c'è Festo Ragazzo Ciao Ciao Efe Poi la facciamo al ritorno Poi la facciamo al ritorno Sì un paio di ore al ritorno le facciamo Assolutamente Tra l'altro gli ho chiesto ad Efe se si è divertito E anche a suo fratello E anche a suo fratello E anche a suo fratello Oh Gesù Dio Come si dice Ma stai parlando Non sai quanto stringe la coda Porca puttana Dio Cristo Dio del Cristo Dio del Parca traia Parca traia C'è un incendio a Ferentino raga E non siamo noi E non siamo noi E l'allarmismo Allora Nella strada per i viaggiatori E si informa che sulla Non so dove cazzo si va Non so che autostrada sia questa La 1 o no? E a A C A C A C A C A C A C A C Qualità assurda Sono contento raga C'è roba no Tu stai Annusando Questa è una cosa incredibile Ed è scienza fondamentalmente Quindi Un nuovo modo di bere l'acqua Se fate Punto esclamativo AIRAP Potete andare sul sito E col codice XIUDERONE Il 10% di sconto No è tanta roba ragazzi È tanta tanta roba Mi raccomando Fateci un pensiero Che ne vale la pena E Il viaggio C'è a gusto porchetta Con lì io potrei proporlo Eventualmente Gusto al cocco Molto buono Gusto a terra